Ben ritrovati amici della Voce del Portico, una nuova intervista oggi con me come ospite l'assessore del Comune di Bologna, Sport, Cultura e Turismo, Matteo Lepore. Assessore, benvenuto qui sulla Voce del Portico. Buongiorno a voi. Assessore, è un momento di difficoltà, un momento di emergenza legato al coronavirus, tanti sono i temi, si comincia a parlare anche un po' di futuro, di ripartenza, per capire come si uscirà da questa emergenza e soprattutto come ripartire. La mia prima domanda è legata proprio al tema della cultura e del turismo, che sono comunque due punti fondamentali, in riferimento in particolare alla città di Bologna. Innanzitutto, come sta la città di Bologna e come si pensa a farla ripartire? Intanto è importante ricordarci che siamo ancora nel piede dell'emergenza, nonostante ci sia stato un calo dei numeri e quindi un miglioramento. In questo momento sono tante le famiglie che stanno soffrendo anche la perdita dei propri cari e la cultura, lo sport e il turismo, che sono le deleghe di cui mi occupo, sono di fatto i settori che per primi si sono fermati e che più tardi ripartiranno. Noi stiamo lavorando innanzitutto affinché il mondo della cultura non perda il posto di lavoro. L'impatto occupazionale sarà importante su tutti i settori lavorativi della nostra città. Bologna è una città che vive di cultura e di questo in particolare insieme alla regione e al governo ci stiamo preoccupando. Quindi prima di ripensare la programmazione degli eventi, dell'estate, di tutte le cose, noi ci stiamo soprattutto finalizzando a questo. E abbiamo chiesto agli operatori culturali anche di ripensare le proprie attività nel prossimo futuro, quando si potrà ripartire, per prendersi cura di Bologna e della comunità. Per quanto riguarda l'operato del Comune, dell'Emilia-Romagna, un po' anche modello rispetto alle altre regioni, lei come lo giudica? La regione si sta comportando molto bene, sta facendo veramente tanto il Presidente Bonacini, veramente mettendo a disposizione tutte le risorse che ci sono. Sì, io credo che la regione stia affrontando nel modo giusto questa emergenza. Il nostro sistema sanitario, che è gestione regionale, sta dando una grande prova di sé, di grande partecipazione e impegno d'edizione da parte dei medici e infermieri. Credo sia stata una bella scelta quella del Presidente Bonacini anche ieri, di annunciare questo ulteriore riconoscimento agli stipendi del personale sanitario. andava dato un segnale, credo che sia stato importante. Allo stesso modo abbiamo al lavoro una regione che ascolta i territori e sta già pensando anche quali investimenti rilanciare per la ripartenza. Quindi io penso che siamo in una regione dove possiamo dirci solidi e davvero preparati per poter affrontare un'emergenza come quella che stiamo vivendo. Ecco, un'emergenza, Assessore, che ha cambiato un po' tutti e cambierà anche il pensiero di tante persone. Sul tema della cultura e del turismo, sapendo che quando si ripartirà, si ripartirà un po' alla volta, quindi a livello proprio di turismo, viaggi, il fatto che Bologna è proprio viva di questo sotto alcuni aspetti, c'è una possibilità che forse bisogna riscoprire questa città chiedendogli in primis ai cittadini, sapendo che tanti turisti magari inizieranno a muoversi però un po' più avanti. Il mercato del turismo straniero, che per Bologna era molto importante, io credo che prima di un anno, un anno e mezzo non tornerà. E quindi dobbiamo lavorare sul mercato interno, sugli italiani, e innanzitutto sulla possibilità di movimento che avranno i bolognesi, ad esempio all'interno dell'area metropolitana. Noi lavoreremo innanzitutto sul recupero di una dimensione di rapporto con la natura, l'escursionismo, gli spazi all'aria aperta, la montagna, un'idea di paesaggio che accolga innanzitutto chi quest'estate avrà la possibilità di prendersi qualche giorno, perché penso sarà abbastanza intuitivo come nei prossimi mesi le ferie non ci saranno, molti stanno facendo le ferie ora, nei prossimi giorni tanti bolognesi riceveranno la prima busta paga con la cassa integrazione e con l'indennità, quindi ci si accorgerà davvero qual è il peso di questa emergenza. Quindi noi dobbiamo stare al canto della nostra popolazione, il turismo è un settore che in Italia vale il 13% del PIL, quindi 42 mila posti di lavoro nell'area metropolitana bolognese, dobbiamo fare di tutto perché innanzitutto il reddito di queste persone ci sia, quindi se il governo metterà in campo una misura di reddito d'emergenza sarà fondamentale, soprattutto per il settore dei servizi come il commercio, la ristorazione, il turismo, che difficilmente ripartiranno a breve. Per quanto riguarda invece il tema sportivo, qui sono tanti gli ambiti, la notizia della conclusione del campionato di basket, la possibilità di poter far proseguire il campionato di calcio, partiamo da qui, partiamo dal tema Bologna, soprattutto anche un tema legato allo stadio, che secondo lei andrà avanti questo progetto oppure ci si fermerà un attimo per concentrarsi su altri aspetti? Quello che sappiamo è che ovviamente il Bologna intende portare avanti la propria progettualità, stiamo dialogando come sempre, ma in questa fase la città è impegnata sulla gestione dell'emergenza, nelle prossime settimane certamente ci occuperemo di nuovo di questo tema, ora siamo impegnati in una manovra economico-finanziaria per sistemare il bilancio molto importante, è chiaro che le grandi opere nel prossimo futuro saranno molto importanti per lo sviluppo e la ripartenza e le nostre intenzioni sullo sport, lavorare affinché tutto ciò che era programmato si possa portare avanti, quindi sicuramente ci sono diverse cose che continueranno ad essere messe in campo. Per quanto riguarda invece il tema campionato, il campionato che si è fermato, la possibilità di farlo ripartire, lei come vede questa cosa? È favorevole? Magari è il caso di fermare proprio tutto, sapendo che ci sono anche tanti interessi in ballo, soprattutto a livello economico, parliamo in primis comunque di imprese e di aziende. Chiaramente lo sport in Italia vuole dire tante cose, io credo che questa pausa ci debba fare riflettere su come anche lo sport debba rientrare, questo tipo di sport professionistico, debba rientrare dentro un'idea di economia reale. Quindi capisco che chi aveva fatto investimenti, chi si era anche esposto, giustamente chieda che si riapra il campionato, che si continui. Io penso che ci sia una probabilità in questo momento, che è la salute dei cittadini, oggi è difficile assumere queste decisioni di riapertura di breve e credo che ci siano altre probabilità in questo momento. Sul tema basket, Virtus Fortitudo, il campionato si conclude, il fatto che queste due squadre, che comunque a Bologna vive di sport, lo sappiamo benissimo, a breve parleremo anche degli sport minori, però Virtus Fortitudo fino all'ultimo hanno provato a mantenere in piedi il campionato, in realtà poi si è deciso di concluderlo. Lei come vede tutto questo? Anche per il movimento, proprio basket che Bologna rappresenta un punto importante. Ma è chiaro che sia Virtus che Fortitudo stavano andando molto forte, questo era un anno importante. Non mi voglio addentrare sulla questione del campionato, dell'assegnazione, insomma su questo preferisco non intervenire. Quello che mi preme è che queste due squadre possono ripartire, sia la parte professionistica che i campionati giovanili, noi stiamo lavorando con loro, stanno lanciando, visto anche alcune proposte di attrazione di eventi, noi saremo al loro fianco. Per quanto riguarda invece gli sport, diciamo minori, quelli che rappresentano un po' il punto importante anche della città, le tante associazioni sportive che sono presenti sul territorio di Bologna, c'è stato uno stop, come intendete aiutarle, qual è anche lì il percorso per farle ripartire? Sì, io sono all'interno di un gruppo di assessori allo sport delle città metropolitane italiane, vedremo nei prossimi giorni anche il ministro Spadafora, quest'oggi c'è stato anche un incontro con gli assessori allo sport dell'Emilia Romagna, il presidente Bonacini, ci sono alcune priorità che sono sul tavolo, innanzitutto la liquidità per le società sportive, molto importante che ieri sia arrivato un provvedimento nazionale che allarga i provvedimenti, dei fondi di garanzia per le imprese, per le PMI del decreto Cura Italia, anche alle società sportive, questo è molto importante. C'è poi il provvedimento sull'indenità dei collaboratori sportivi con un tetto di 10 mila euro, anche in questo caso è stata fatta una modifica molto richiesta dai comuni, dagli enti di promozione sportiva, cioè che questo tetto possa essere superato, per ora c'è questa dicitura della priorità ai collaboratori che hanno un tetto di reddito sotto i 10 mila, noi chiediamo che questo tetto salti, perché ci rendiamo conto di una cosa, lo sport è lavoro, non è un hobby in grande parte, quindi sia per la cultura che per lo sport siamo di fronte ad un grave problema di reddito e anche di riconoscimento del lavoro nell'ambito culturale e sportivo, problema che avevamo prima dell'emergenza e che oggi è un po' riemerso come la polvere sotto il tappeto, quindi assolutamente va affrontato. Infine avremo due questioni che nei nostri comuni stiamo guardando, quella della gestione degli impianti e delle concessioni, occorre che a livello nazionale venga fatto un provvedimento per almeno allungare di un anno o due i termini delle concessioni, sarebbe fondamentale per evitare cause e problemi finanziari, sia i comuni che le società sportive e le famiglie, ecco, dobbiamo sostenere la spesa delle famiglie, la capacità nei prossimi mesi delle famiglie di iscrivere i figli alle attività sportive. Lo stiamo vedendo anche dai buoni spesa, che il Comune ha deciso di finanziare, aggiungendo proprie risorse a quelle dello Stato, le famiglie colpite da questa emergenza sono molte di più di quelle che ci si poteva aspettare e lo saranno nei prossimi settimane molto di più, pensiamo anche ai lavoratori autonomi, alle partite IVA, quindi ci sono famiglie che stanno chiedendo il buono spesa che non avremmo mai immaginato. E così per la spesa, figuriamoci per altri tipi di attività. Lo sport rischia una grave crisi sulla domanda, sarebbe importante mettere in campo uno strumento come quello dei voucher, ad esempio, che è già stato usato in ambito sportivo per i centri estivi, noi abbiamo proposto, molti assessori hanno proposto, che vengono usati anche per l'apertura della stagione per permettere alle famiglie di iscrivere i figli alle attività sportive. Credo che lo sport sia un'attività anche per tenere in salute le persone, non a caso anche nei decreti che stiamo vedendo adesso per l'emergenza si cita l'attività motoria come un'attività fondamentale, insomma, ognuno di noi vuole almeno fare un giro attorno all'isolato o fare attività sportiva in casa, perché fa bene dal punto di vista psicofisico e anche tante famiglie, quando torneranno al lavoro, dovranno pensare a cosa i loro figli possono fare, sicuro d'estate, quando le scuole sono chiuse, ma anche successivamente. Quindi sostenere la domanda delle famiglie è molto importante. Sul tema dei giovani, Assessore, sapendo che si vive un'emergenza difficile, per i giovani che la stanno affrontando, lei cosa si sente di dire, anche che consiglio dà, sapendo che si è provato a mantenere tutta questa normalità, comunque le lezioni online, quindi cercare un po' di mantenere tutto questo, lei che consiglio dà anche per continuare ad affrontare questa emergenza, ma guardando proprio anche al futuro, alla ripartenza anche per loro? Intanto li invito a immaginare come la loro vita, nei prossimi mesi, possa essere anche un motivo di impegno, perché noi usciremo da questa emergenza cambiati, è vero, molti dicono che le cose non saranno più come prima, da un certo punto di vista avremo la nostalgia, al rimpianto delle persone che non ci sono più, e questo è vero, ma io penso anche che prima non ce la passassimo benissimo, e quindi sarebbe bene non ritornare esattamente al punto di partenza, noi dobbiamo mettere in campo anche un forte impegno civile, affinché le cose non siano più come prima in alcuni aspetti, quello del lavoro sicuramente, lo citavo prima, ma anche del rapporto fra noi e l'ecosistema naturale, se questo virus ci è arrivato a colpire così forte, anche perché l'uomo è andato oltre dal punto di vista dell'industria, dell'intaccamento dell'ecosistema, ci sono molti libri che in questo momento sono assai letti, che lo raccontano molto bene, consiglio a tutti il libro, nel 2012 è stato scritto sui contagi, che si intitola Spillover sulle epidemie, e poi credo che ci sarà bisogno dei giovani per dare una mano al volontariato, noi abbiamo generazioni che reggono in piedi fino adesso il volontariato delle nostre città, Bologna lo sappiamo bene, sono generazioni che hanno fatto la storia di questa città, oggi sono le generazioni più colpite dal virus, non possiamo immaginarci che nei prossimi due anni tutto questo peso possa essere sulle loro spalle, occorre un grande impegno sul fronte del volontariato da parte delle generazioni più giovani, non dico i giovanissimi, ma sicuramente dai 60 anni in giù, tutti quelli che possono dare una mano al mondo del terzo settore e al volontariato è arrivato il momento che lo facciano. Assessore, si aspettava questo spirito di solidarietà delle tante persone che hanno contribuito a fronteggiare questa emergenza, parlando delle piccole attività, fino alle grandi imprese, cioè è venuto fuori forse un qualcosa che prima c'era ma non si vedeva così tanto? Diciamo che è una grande conferma dello spirito che questa città, nelle difficoltà Bologna emerge sempre con grande partecipazione. Anche in questo caso abbiamo visto numeri del volontariato molto alti, abbiamo alcune migliaia di persone che si sono candidate ad essere volontari per la spesa a casa, per le telefonate alle persone sole, abbiamo molte imprese ma anche molte persone singole che stanno donando soldi alle varie campagne di raccolta fondi, di ospedali e anche delle cucine popolari, degli impori solidari del comune. Quindi da un lato questa crisi ha fatto emergere un po' come Bologna sia una città che ha ancora forti disuguaglianze ma ha anche tante risorse di partecipazione. Per quanto riguarda le forze politiche, Assessore, è arrivato il momento comunque di mettersi tutti insieme, forse di cavalcare la stessa onda, di stare tutti sulla stessa barca perché è un momento in cui bisogna stare uniti, fronteggiare un nemico comune? Sicuramente sì, è arrivato il momento di mettere da parte le differenze e fare un fronte comune, certo confrontarsi quando ci sono delle opinioni che possono essere distanti, ma oggi dobbiamo essere uniti, l'obiettivo è uscire da queste emergenze e ripartire al più presto. Per quanto riguarda il futuro, le cose si aspetta? Beh, intanto che ci sia una Pasqua che ci porti presto qualche notizia positiva, che i numeri calino, soprattutto delle persone che stanno perdendo la vita e delle terapie intensive. Credo che tutti noi stiamo aspettando il momento in cui potremo tornare a riabbracciarci e spero che questo momento arrivi presto. Cosa farà l'assessore Matteo Lepore quando finirà questa emergenza, quando tutto proverà a tornare alla normalità? Beh, sicuramente insieme alla mia famiglia torneremo a riabbracciarci, sono più di un mese che non vedo i miei genitori e anche altri parenti e sicuramente la prima cosa sarà questa. Grazie mille all'assessore Matteo Lepore per averci dedicato un po' del suo tempo in questa intervista qui alla Voce del Portico. Grazie mille, assessore. A voi, grazie. Grazie mille all'assessore Matteo Lepore. Finisce qui un'altra intervista della Voce del Portico e noi ci troviamo alla prossima. Grazie.